Tutti noi che ci esponiamo sul web, che ci esponiamo in generale, poi ovviamente lo devi fare sul web, ma anche nella vita reale, però nel web diciamo che c'è più, insomma, è più facile attirare i cosiddetti hater e ognuno se li risolve un po' come può. Alcuni sfruttano proprio il discorso hater per fare dibattito, polemica, e poi c'è XX Tentacion, in questa canzone Morphine, canzone inedita di Juice Ward che è trapelata sui siti di Leak il 25 luglio 2019, Juice racconta di essere finito con gli hater che parlano schifosamente di lui e di come è disposto a ucciderli per farli tacere. Ecco, lui proprio non ha molta pietà, cioè lui proprio vorrebbe ammazzarli. E in questo testo te lo dice chiaro e tondo. Infatti, il prossimo nigg che parla alimenta il mio istinto selvaggio. Il prossimo lo schiaffeggio con il racket. Potrei rapire sua nonna. Lei è di pezzo di umore ma torna utile. Divento di umore triste senza le mie caramelle. Caramelle, così. Eh, poi ragazzi, purtroppo le traduzioni sono quelle che sono, eh. Però mi sento come se mi mancasse qualcosa, dice. Poi, se non riusciamo a trovarlo, later, andiamo dalla sua famiglia. Prendo il padre che manca in cucina, sorseggiando Brandy. 40 gradi su di me. Riscalda l'ascia. E marchiamo un nigga, lo marchia. Lo facciamo cantare come Michael Jackson. E lo rendiamo un idol americano. Poi con un fucile americano spariamo. Come American Snipper. Vieni a ottenere il nostro... Eh, qua non si capisce. Però... Immagino si stia parlando della sua donna. Perché dice Cagna ha una gola profonda infernale. Oppure una, una hater donna. Che, insomma, la, la, la definisce Cagna con gola profonda infernale. Cioè, ha l'inferno nella, nella gola. Eh, e tossisce maledettamente. Eh, lui, mentre, eh, svolge questo, si guarda intorno. Perché è nei boschi. E dice, questi boschi mi hanno dato il cancro. Così. Cioè, cioè. Eh, ciò, pa, il naso lungo. Chiamalo Tucano Sam. Quindi un altro. Un altro. Insomma, poi ne prendo un altro. Tu sei Tucano Sam. Eh, chiamami Mr. Fuck a few hosts. Non, insomma. Mr. Fottuto. Eh, insomma. Selvaggio. Giovane. Pericoloso. Fatti sparare nella faccia. Che fa quella merda stupida. L'odio. Cioè, sta incazzato nero. Cioè, lui, in questa canzone ti descrive. E in questa strofa. Pappo c'è di nuovo un ritornello. Come ammazzerebbe diversi hater. Uomini, donne. Senza badare a sesso, religione, razze. Eh, XX. Eh, no, XX. Scusate. Il Jewish World. A un hater vorrebbe solo ammazzarlo. Nessun confronto positivo. Nessun dibattito. Mi critichi. Ti voglio ammazzare. Va bene. Ognuno ha il suo rapporto del resto con gli hater. E quindi va bene così. Bella Jewish. Rest in peace. Insomma. Che dire. Ha già detto tutto. Ovviamente, ragazzi, non prendiamo sul serio queste traduzioni. Buttate la mia ironia al riguardo. Il mio cinismo. Ormai ho sviluppato un grande cinismo a parlare di artisti defunti. Però, cioè, ci stiamo cercando di divertire. Stiamo cercando di far trapelare un messaggio. Ogni tot di podcast seri ne facciamo alcuni ironici. Insomma. Quindi, di conseguenza, soprattutto, non ammazzate nessuno. L'hater si affronta rispondendogli. Come i bulli. Ok? Non so se avete mai avuto a che fare con un bullo. Io sono stato, a mio modo, un bulletto. Ai tempi delle medie superiori. E vi assicuro che l'unica cosa che vuole un bullo è divertirsi e umiliare. Chi non rompe il cazzo più di tanto. Quindi reagite. Tirate fuori i coglioni. Aprite un dibattito reale. Cioè. Faccia a faccia. E vedrete che i vostri hater diventeranno i vostri amici. E comunque. Chi se ne frega. Siate voi stessi. Fate quello che vi pare. Se stavo a ascoltare gli hater, avevo già chiuso il podcast da tempo. Ma se stavo a ascoltare gli hater, avevo già chiuso con la vita da tempo.